è l'ultima parte del livello a l'unica è un'ultima parte è un'ultima parte non si è un'ultima parte mi sa che non so se posso farlo Ah, adesso... Ehm, non... Scala, non spiega, Scala C'è poi sempre giallo non c'è niente Ah no, c'è il binosario per spaccare sta parte, guarda, no, per salire, aspetta, guarda, se riusciamo a... Sì, se si riesce No, aspetta Tappa Aspetta che è un minco di Sancio Marente Ah, ui J Uaaaa Bomb Ho già sbagliato Dove andare Eh, aspetta, ui Che è con questa Aspetta Tappa Ok Lì E adesso Aspetta G Sardi di W Perfetto E andiamo Adesso Sì Ma è come cacchio io Aspetta Arca 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 Un cacchio Ah, scusa Aspetta Ah, scusa Ah, ok Adesso Un cacchio Adesso C'è Poi se facciamo Una specie di starete A breve Sì Così sale Ok Giusto Se scende D'ammazzo Ehi Tim Sto venendo su Adesso Adesso Sì C'erano I veniani C'erano Anche Inizio 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 Ehi A Anche No Ah Mi being Inizio Rai 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 Am Rai ok 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 usiamo un camponino per agganciarci ad Aliana che è lassù che è l'impasto Oh, no, 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 no. Non so, ho sbagliato però non è colpa mia, mi spiego un po' perchè sta andando su da solo Ok, questo qua mi serve lei sicuramente significa una ruogg ability Ecco il nostro paosino Ma ho sbagliato Ma ho sbagliato È una ru birria Ogni un po' believers La non so come andare, quindi c'è anche lei Upp Adesso c'è sempre lei, che è una cuna pazza Eeeeeee Ness Tutto bene? Ho vomitato Beh, è normale Dammi la mano Il segreto dell'orampicarsi è mai guardare in basso Ok Vai Questa è la macchina E ancora Sto in macchina Almeno... Non stai più in cima a un'amero Dov'è l'altra macchina? Alan! Alan! Ian! Ian! Possiamo rischiare di muoverla Rischiate, rischiate Rischiate! 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 Pssst! M***e, è sbagliata E' sempre così Aspetta Cazzo lascerò un'anda L'ho vista Anche questo fa la parte del barista Aspetta Allora Poi Allora E' un'oglio è stato fatto non pensare stavato è stata da l'acqua è stato da l'esituzione Mi ricordi di ringraziare John per il bellissimo picchetto. Non troveremo mai il comando che ha usato Nedry. Ha coperto bene le sue tracce. Per favore! Disattivare tutto il sistema è il suo modo per cancellare quello che ha fatto. La prego di disattivare il sistema. Tutto ok? Guardi, questo è acceso. Funziona. Sono saltati solo gli interruttori. Tre minuti e ridò corrente a tutto il barco. Per sicurezza vorrei che andaste nel rifugio d'emergenza. Finché Arnold non ritorna, il sistema non viene riattivato. Assumere i metri è stato un errore. Dovevo essere già rifatto. Conanti si è la plancazione. E' un'altra plancazione. Chiavano... A forà si è la plancazione. Mi raccoglie dovrei andare in un altro. Vabbè, abbiamo finito anche questo e adesso spegniamo anche questo qua 88% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 67% 55% 56% 67% 67% Dicono già senti il tuo tipo Ah, l'ho visto Continua storia Anzi, continua storia Ok, ci siamo Quindi adesso Pausa